Unilever si torna a parlare di sciopero, il progetto di riconversione dell'azienda per le RSU deve essere chiarito fino in fondo e spiegato ai dipendenti. Così venerdì i lavoratori dello stabilimento incroceranno le braccia per un'ora a fine turno. Ad indire l'agitazione la RSU aziendale che ha sottoscritto un duro comunicato per illustrare le ragioni dell'avvertenza. Pomo della discordia all'esame di espansione azionato dalla multinazionale e che verrà discusso presso il Ministero del Lavoro che consente all'azienda una pluralità di azioni. Fare uscire il personale a 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o di anzianità con un percorso di esodo incentivato. Assumere risorse qualificate, utilizzare la CIGS fino a 18 mesi con una riduzione media oraria del 30% per i lavoratori privi dei requisiti per lo scivolo e formare infine i dipendenti sulle competenze che necessitano di aggiornamenti in primis sul fronte tecnologico. Da sottolineare però che Unilever va verso una new co con il progetto di riconversione industriale che sarà portato avanti dalla multinazionale insieme alla Seriplast di San Potito-Sannitico in provincia di Caserta. E così entro il 2024 dovrebbe nascere uno dei più avanzati siti in Europa per la produzione di plastica riciclata. Tuttavia alcuni aspetti della riconversione non vanno giù alle RSU perché il 24 maggio l'azienda ha avviato la procedura finalizzata alla stipula del contratto di espansione limitandosi a comunicare le decisioni e senza dare risposte alle legittime domande dei lavoratori.